Nella pace, la maestra di Carabonese, un applauso alla tutt'altra, se si dirà, un applauso a Pepparetto, alle percussioni che il nostro animo, grazie. Do la parola alla maestra, prego. Grazie a tutti, un minuto, mi viene un buono solo. Allora, come avete visto, già quest'anno è la seconda volta che facciamo un concerto qui a Sudanale, spero di parlare di 150.000, quindi sicuramente ne hanno più di 100 anni. Faremo l'intieni seppettino a voi qua. Questa corale, oggi, si affiancano delle persone in più, che vengono comunque, come ha detto il Vescovo, da Olvia, e quindi si forma qualcosa di più bello. Oggi portiamo dei canti. Il primo canto lo dedichiamo alla Madonna della pace, che è comunque la nostra mamma. Il secondo canto viene Gesù, ma la notà, dove noi comunque dedichiamo Gesù a venire vicino a noi. Il terzo canto lo dedichiamo alla luce, la luce che nasce, cioè Gesù. Vedrete anche i nostri bambini del catechismo che faranno una loro piccola presenza, e quindi datele un apporto morale perché sono un po' così spaventati. Grazie a voi. Grazie. 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 Sottotitoli e Sottotitoli Sottotitoli e Sottotitoli Sottotitoli e Sottotitoli Sottotitoli e Sottotitoli Sottitoli e Sottitoli 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 e Sottitoli 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 dei bambini per fare le prove